Ciao ragazzi! Nuova spesa Eurospin, 14 gennaio 2017. Allora, ho speso 18,70 euro e ho comprato, vediamo, vado in ordine di scontrino, i frullini, dove sono questi qua? Cacao e mandorle, a 0,99 euro, poi la camomile, scusate se sparisco, lo spazio è quello che è, la camomile solubile, 75 centesimi, questa qua al limone, questa, poi il solito, due confezioni di ginseng al caffè, caffè al ginseng dirò, 1,19 euro, poi la crema spalmabile e le nocciole, tutto anche la speed, questa qua, crema spalmabile e le nocciole, 1,49 euro, mettiamo qui, poi lo yogurt cremoso, che vado a prenderlo subito, un attimo, sempre che parte, lo yogurt cremoso alla stracciatella, 75 centesimi, questo qua, poi i fazzoletti delicato, 1,19 euro, è un pacco da 18, poi il shopper, vabbè, la tortiglia, questi qua, 99 centesimi, poi ho preso farciti al cacao, questi, 59 centesimi, poi il bavoletto, 12 rotoli di caffè genica, questo, soft dream, soft dream, 2,89 euro, mettiamo, mettiamo qua, poi la risma di carta per stampante, per stampante, a 4, a 2,59 euro, questa qua, e poi ho preso il detersivo liquido lavatrice, a 3,99 euro, scusate che pesa un sacco di, pesa tantissimo, questo, tabacco vaniglia, ambra, lavatrice, sono 62 lavaggi, pesantissimo, mi sono staccata la schiena, per la salvo, comunque, 18,70 euro, e niente, questa è la spesa che ho fatto oggi, spero, se vi piace, mettetemi tanti like, iscrivetevi al mio canale, vi ricordo che la prossima settimana scade il giveaway che ho fatto, l'ho registrato due giorni fa circa, e lasciatemi il messaggio a quel video, e iscrivetevi al mio canale se volete vincere i prodotti, ok? Ciao, un bacio!